andrei qui voglio quelle cazzo di vergini quelle due vergini maledette che saranno ancora fortissime eccoci qua qui si scendeva e l'assa andava bene bene ci ha fatto tutto il gioco con scintilla magica come cazzo allora ok vieni 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 si mi piace benissimo benissimo è una pazzia andà giù comunque sia con 30 mila rune perché non te le regala nessuno ste rune guarda guarda c'è so pezzi di vergini questi so pezzi di vergini buttate nella lava arrugginite eeeh eeeh le proviamo a fare porca troia so due però se evoco i maghetti magari se la piano con loro eccole qua qui si raccoglieva un sacco di roba musica di caverna in boccio sarà in bocciolo però vabbè vai a sapere chiamiamo i nostri maghetti se se fa in tempo perché ce l'abbiamo subito addosso le due vigliacche via eccola qua no finirebbe dargli in due bene dai avevo rollato bene occhio che fa la ruota bastarda stannati bene 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 benissimo che soddisfazione levarle dal cazzo che soddisfazione mamma mia bastarda maledette e così apre anche un passaggetto no zona tante tutta esplorata però 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 eccolo qua un'altra via this is good this is good all right rimane sto fottuto gigante de foco perché maledetto bastardo lui la razza però ecco che era vedi questo io l'ho visto la prima volta 40 ore fa e non capivo come mai si usciva da lì e ora e ora è tutto chiaro vabbè tanto qui la zona è tutta tutta esplorata c'è rimasto un fottuto drago de magma su 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 ma qui la forte la ied quindi volendo si può riprovare a far però penso si arrivi prima da qui no andiamo un po' così proviamo a levarlo dal cazzo anche a lui si 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 è qui è qui è qui anche se qui era pieno deste meggiere queste vecchie meggiere non vedo un cazzo sta cam de merda la solita vecchia cam come la cara vecchia titanite uguale la cara vecchia cam guarda 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 si picchiano tutti e tre bravi dopo dite male eh dite male dopo eh eh dite male eh dopo ok quell'idiota è lassù perfetto dov'è il dragon venite miei fedeli abbiamo un'arma vai proviamo questo c'è una infinità di vita ancora ce l'ha ancora ce l'ha e ancora ce l'ha e ancora ce l'ha no no non lo fare questo è andato c'è andato c'è andato maledetto bella mossa bella mossa bella mossa bella mossa bella mossa bella anche su due piedi eh sfreccio a fianco sfreccio a fianco caro il mio caro il mio magma cuore di drago perfetto qui c'è roba eh però andiamo un po' a vedere chi è che strilla che cazzo è far falla l'ardente che era che urlava ah è l'alexander lassù ma certo che cazzo fa parla dubbio che tu voglio semprarti con le fiamme vaso eh lo so ci sono stato già inoltre il picco genio gigante peccato amico mio che non ci sei se no te te invitavo volontieri ero veramente felice se se mi venivi a dare una mano credo